In questo video esploreremo cinque potenti strategie per ottenere il rispetto e l'ammirazione degli altri, creando una realtà in cui nessuno può insultarti. Questa narrativa avvincente sarà un'esperienza trasformativa che cambierà il tuo modo di relazionarti con il mondo. Cominciamo. In un incantevole villaggio situato tra maestose colline, immerso in una serenità unica, viveva un uomo chiamato Henry, noto per la sua educazione e umiltà. Tuttavia si lamentava della scarsità di risorse economiche. Henry aveva alcuni amici e ogni volta che si incontrava con loro mostrava un profondo rispetto e ammirazione. Purtroppo però non riceveva lo stesso trattamento. Un giorno, sentendosi fuori luogo e con il cuore pesante, Henry si ritirò presso un fiume nelle vicinanze, allontanandosi dal suo villaggio. Lì, in mezzo alla sua tristezza e confusione, cominciò a chiedersi perché la gente non mostrasse rispetto per lui e perché i suoi stessi amici lo continuassero a disprezzare senza motivo apparente. Si chiedeva perché il mondo fosse pervaso da un comportamento offensivo e denigrante. La sua mente era oppressa da questi pensieri inquietanti che turbavano la sua pace mentale. Con il desiderio di trovare risposte alle sue preoccupazioni, Henry si affrettò a raggiungere il suo vecchio maestro Zen. La sua dimora si trovava in un maestoso monastero situato tra le montagne. Quando arrivò al monastero, vide che il maestro Zen era immerso in profonda meditazione con diverse persone sedute ai suoi piedi, in cerca di guida e consigli. Henry si unì a questo gruppo, aspettando pazientemente il suo turno. Il maestro, aprendo misericordiosamente gli occhi, percepì l'angoscia che affliggeva alcune di quelle persone a causa di vari problemi e avversità della vita. Iniziò ad affrontare le loro difficoltà una per una. Quando finalmente arrivò il turno di Henry, lui si alzò e si inchinò rispettosamente davanti al maestro prima di inginocchiarsi. Il maestro Zen chiese al giovane uomo come stava e in quel momento Henry non poté trattenere le lacrime e aprì il suo cuore. Gli raccontò che nessuno lo rispettava né lo considerava degno di attenzione. Sentiva che tutti lo davano per scontato, compresi i suoi amici, la famiglia e i parenti. Ogni volta che esprimeva la sua opinione, veniva ignorato e sfortunatamente iniziava a credere di non essere degno di rispetto. Il maestro Zen chiese a Henry cosa desiderasse. Henry rispose, Maestro, desidero che tutti mi rispettino e apprezzino, che prestino attenzione alle mie parole e non mi ignorino. Il maestro Zen rispose, Nessuno può mancarti di rispetto o umiliarti senza il tuo permesso. Devi capire che vivi in un mondo in cui spesso i forti opprimono i deboli e indifesi. Come un genitore che disprezza i propri figli, un marito che sminuisce la propria moglie, un ricco che disprezza i poveri e un padrone che disprezza il suo servo. Coloro che sono forti in questo mondo tendono a scavalcare i deboli. Per comprendere perché la gente non ti onora né ammira, devi approfondire la mentalità delle persone, comprendere come pensano e come percepiscono le cose. Il maestro proseguì, Ti insegnerò ora cinque principi che, se applicati nella tua vita, ti permetteranno di guadagnare il rispetto e l'ammirazione degli altri e nessuno ti ignorerà o insulterà più. Ascolta attentamente queste lezioni trasformative. Così iniziò con la prima. La prima abitudine che devi imparare è dire che non sei d'accordo quando necessario. Se uno è sempre d'accordo con la gente solo per compiacerla e sembrare amichevole, finisce per minare la propria autostima. Le persone danno sempre per scontato chi dice sempre di sì e perdono il rispetto per quella persona. Il secondo principio è smettere di lamentarsi. Tutti affrontano problemi nella vita, ma nessuno gode della compagnia di qualcuno che si lamenta sempre di tutto. Le persone cercano coloro che possono farle ridere, alleviare le loro preoccupazioni e dare loro un sollievo dalle proprie sfide. Nessuno vuole stare vicino a qualcuno che si immerge nella tristezza e si lamenta costantemente. Pertanto, per mantenere la tua autostima e guadagnarti il rispetto, è fondamentale che abbandoni l'abitudine di lamentarti costantemente. Invece, cerca soluzioni per i tuoi problemi e evita di condividere costantemente le tue difficoltà, poiché ciò può portare al rifiuto. Il terzo principio su come guadagnarti il rispetto delle persone riguarda il non essere sempre disponibile per tutti. Se uno è costantemente a disposizione di tutti, la gente tende a perdere il rispetto e a considerare quella persona insignificante, indipendentemente da quanto possa essere preziosa. La percezione che ha un'altra persona del nostro valore diminuisce quando le diamo troppa importanza. In questo mondo, chi è meno accessibile è spesso più apprezzato di chi è sempre disponibile. Pensa all'acqua. Essendo più accessibile, è spesso sottovalutata, mentre un prezioso diamante, a causa della sua rarità, è più valorizzato. Pertanto, se sei meno disponibile, attirerai più rispetto. Inoltre, se non sai dire no, questo porta le persone a non rispettare il tuo tempo, assegnandoti compiti che potrebbero svolgere da sole. Questo potrebbe farti perdere tempo che potresti impiegare per migliorarti e crescere. Imparare a dire no al momento giusto è essenziale per mantenere rispetto e dignità. La quarta lezione riguarda l'importanza di mantenere sempre la parola data. L'onestà e l'affidabilità sono qualità essenziali per guadagnarsi il rispetto delle persone. Se desideri che ti rispettino e ti valorizzino, devi evitare di fare promesse false e dire bugie. Devi mantenere la tua parola a ogni costo. Coloro che sono coerenti con le proprie parole guadagnano il rispetto degli altri, mentre coloro che mentono e non mantengono le loro promesse perdono credibilità. L'integrità nelle tue parole e azioni è fondamentale per guadagnarsi il rispetto della gente. Pertanto, devi mantenerla se desideri ottenere il rispetto e l'ammirazione dei tuoi cari e di chi ti circonda. Dopo queste quattro preziose lezioni, il maestro Zen si rivolse a Henry per impartire la quinta e ultima lezione. Il maestro Zen disse a Henry Figlio mio, una delle principali ragioni per cui la gente umilia qualcuno in questo mondo e nella società è la povertà. Un uomo povero in questo mondo tende a non avere amici né parenti, affronta insulti e costante vergogna. In questa situazione, il povero potrebbe arrivare a sentirsi come in una maledizione. Il peggiore insulto che una persona povera può subire è quello che proviene dalla propria famiglia, in casa propria, quando si diffonde la notizia che non ha denaro. Da quel momento, tutti iniziano a guardarla con compassione. Vivere come una persona povera in questo mondo è come camminare su un sentiero pieno di spine. Il maestro esortò quindi Henry a sviluppare qualità che lo aiutassero a sfuggire alla trappola della povertà. Spiegò che questa era anche una ragione significativa per cui la gente spesso non mostra rispetto. Se Henry voleva guadagnarsi il rispetto e l'ammirazione degli altri, doveva lavorare su se stesso per diventare la migliore versione di se stesso. Dopo aver trasmesso queste cinque preziose lezioni, il maestro Zen concluse il suo discorso e benedisse Henry, augurandogli una vita futura piena di splendore e felicità senza più mancanza di rispetto. Dopo aver ricevuto la benedizione, Henry espresse la sua gratitudine al maestro Zen e si inchinò rispettosamente davanti a lui prima di andare via. Henry applicò le cinque lezioni del maestro Zen nella sua vita e presto sperimentò cambiamenti significativi che portarono nella sua vita rispetto, onore e apprezzamento. La gente cominciò a percepirlo come qualcuno con alti valori e la sua vita fu completamente trasformata. Da quel momento, tutti lo rispettarono e onorarono come aveva sempre desiderato. Grazie per aver visto questo video e speriamo che porti vere benedizioni nella tua vita. Se ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale per altri contenuti come questo. Ci vediamo nel prossimo video.